Allora, la piazza non green pass, mi aspetto il solito cumulo di idiozie che escono da queste piazze. Io penso che vada messo il vaccino obbligatorio esteso, che chi non si vaccina non può più rompere le scatole alla vita di chi si vaccina e dunque questa cosa deve finire ora e ci vuole il massimo delle intransigenze. Basta, non ce ne può più, questa situazione è una situazione che sta diventando critica per una minoranza di persone che contro ogni evidenza scientifica ritiene di poter essere Superman e di essere tutti quanti premio Nobel per cui di aver individuato pure alternative, varianti che non si conoscono, eccetera, eccetera. Alcuni di loro arrivano a fare le cose indegne che abbiamo visto nei confronti del Presidente, ex Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, quindi per me tolleranza zero, Sassoli ha da finire, vaccino obbligatorio tutto e si riapra.